La forza dentro di sé c'è, perché se per tanti anni hanno resistito, purtroppo viene da dire così, a una serie di soprusi, le risorse interne ci sono, vanno attivate perché possano invece intraprendere un altro percorso. Nei primi sei mesi del 2018 sono state 206 le donne che nell'Aretino si sono rivolte al centro antiviolenza, oltre alla metà di loro sono italiane di un'età compresa tra i 30 e i 50 anni. Rispetto all'anno scorso è un raddoppio quasi, però più che di carattere di incremento della violenza è più un discorso relativo a un sommerso che emerge. C'è più coraggio, c'è più presa di coscienza, c'è più forse anche la possibilità per la donna di pensare ad un'altra strada da scegliere. L'ultimo episodio che era acceso ai riflettori sul fenomeno della violenza di genere risale solamente a qualche giorno fa, l'ennesimo caso di un marito padrone che per anni ha maltrattato e vessato la giovane moglie, sino a che la donna nei giorni scorsi ha trovato dentro di sé il coraggio necessario e si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare il suo aguzzino. I maltrattamenti sono praticamente quasi tutti in famiglia e la difficoltà è comprensibile perché la donna deve decidere di denunciare l'uomo che crede di amare, deve decidere di denunciare il padre dei propri figli. La denuncia è un passo fondamentale, ci deve essere anche una protezione però dopo la denuncia perché spesso dopo la denuncia il maltrattante ha il picco di violenza più elevato, quindi non bisogna correre, bisogna darsi del tempo che è piuttosto lungo per poter fuoriuscire da questo meccanismo violento. La donna qui trova uno spazio per poter parlare, essere ascoltata e essere creduta soprattutto.